Sei un dipendente pubblico infedele? Ti licenzio in 48 ore. Il Premier Renzi ha annunciato un mini pacchetto di norme che mercoledì approverà in Consiglio dei Ministri. Chi timbra e poi scappa dall'ufficio è un truffatore e danneggia la credibilità della stragrande maggioranza dei dipendenti pubblici che lavorano bene, ha spiegato Renzi, precisando che se il dirigente del dipendente infedele non procede rischia egli stesso di andare a casa. Io ritengo che ciò che si sta proponendo adesso non è altro che un'azione di natura, chiamiamola propagandistica, dove l'annuncio vale più che non nella sostanza, perché ciò di cui sta parlando è tutto già scritto nel codice del lavoro e nello strutturale lavoratore in particolare. Le sanzioni si sono state da sempre. Il problema è che in un ambito di un paese civile le sanzioni si applicano soltanto quando la parte interessata a subirle si possa esprimere, possa provare le stesse circostanze in opposizione a quello che prova il dottore di lavoro. Le disposizioni in corso di stesura da parte dei tecnici introdurrebbero un tempo certo di 48 ore per sospendere da lavoro e retribuzione il dipendente colto in flagranza di lecito disciplinare con prove certe, come la videoripresa della falsa attestazione di presenza in servizio. Tutto corretto e soprattutto previsto dalla Costituzione? Abbiamo una previsione che l'intervento sulla regola del lavoro sia fatto non da un organo imparziale, come potrebbe essere il Parlamento, bensì da un ente, il governo, che è parte direttamente coinvolta perché è datore di lavoro. Ora è un po' anomalo che una regola venga decisa nei rapporti contrattuali con la contraparte che è il lavoratore dal datore di lavoro e basta. Sempre entro le 48 ore successive all'irregolarità documentata dovrà poi partire il procedimento che porta al licenziamento. Oggi l'iter prevede una durata di 60 giorni ma poi si superano i 100 effettivi. Questa affermazione è pericolosa perché mette in nulla, cioè vanifica, tutto ha un tempo importante per arrivare a costituire all'interno del procedimento disciplinare, regole certe che consentono al cittadino lavoratore della garanzia dei diritti. Dei 7.000 procedimenti disciplinari che si aprono ogni anno, quelli che si chiudono con l'interruzione del rapporto di lavoro sono poco più di 200, di cui circa la metà per assentesmo. La provincia di Bolzano tra il 2000 e il 2014 ha licenziato 12 funzionari in tre casi per prestazioni giudicate insufficienti, due per assenze non giustificate, tre per motivi vari, altrettanti per false malattie e uno per abuso di alcolici.